Per rispettare il DPCM e le ordinanze del signor sindaco, continuiamo a fare dei controlli, continuiamo purtroppo a verbalizzare, però devo dire che le persone si attengono alle uscite principalmente per motivi di necessità, salute e lavoro. Oggi siamo qui davanti al Comituto e abbiamo costi di controllo anche davanti a Piazza Preventure e stiamo coprendo tutti i territori, mediamente ogni giorno ci sono 18 pattuglie in servizio. Abbiamo controllato moltissimi esercizi commerciali, siamo già stamattina a circa 800 esercizi commerciali controllati, con un'ottima media di chiusura e quindi siamo abbastanza contenti, solo che bisognerebbe fare in modo che ci fossero meno persone in giro, bisogna ridurre la presenza di persone in giro, quindi è un invito alla cittadinanza a rispettare ancora di più queste ordinanze appena menzionate e a far sì che per esempio si esce per la spesa solo una volta al giorno, necessità proprio contingenti e per motivi di salute e di lavoro, ne va per la nostra salute. Grazie. 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 Grazie a tutti.